Ancora nessuna indennità agli operatori sanitari impegnati nei reparti Covid. Se continua a lavorare in condizioni estreme, basta tergiversare, servono risposte subito anche sulla questione sicurezza. A lanciare il grido d'allarme è Claudio Cullurà, segretario territoriale del NURSID, sindacato autonomo delle professioni infermieristiche per l'area della Sud-Est, dopo aver ricevuto una lettera dei dipendenti che lavorano ed hanno lavorato nelle aree Covid. Gli infermieri impegnati nei reparti creati ad hoc per l'emergenza sanitaria, spiega Cullurà, avrebbero diritto ad un'indennità contrattuale di 5,16 euro al giorno come i colleghi del reparto di malattie infettive, ma non stanno percependo niente da ottobre. La regione continua a tergiversare, sostenendo che si arriverà ad un accordo, aggiunge, ma fin qui l'unico risultato è stato avviare una ricognizione sugli operatori che hanno prestato servizio nei reparti Covid da ottobre a febbraio. Il personale ha segnalato più volte il disagio, la stanchezza fisica e mentale derivante da questa prolungata situazione, tanto più che si continua a lavorare in condizioni estreme, con alti livelli di stress e non senza preoccupazioni per le condizioni di rischio. È di poche settimane fa la notizia della scoperta di migliaia di mascherine FFP2 non a norma, prontamente ritirate dall'azienda sanitaria e tutt'oggi in attesa di verifica. Chiediamo all'Asla Toscana Sud-Est di fare piena luce sul tipo di contraffazione individuata. Abbiamo bisogno, conclude il segretario territoriale di certezze.